Ciao, sono David, da Paderno in Valdarri e faccio parte di Trumpweb per un vicino mediterraneo. Oggi vi parlo di come confezioniamo e consegnavo gli scudi panciali. Innanzitutto li preassembliamo, andando ad unire all'archetto stampato in 3D, l'elastico, il foglio in plastica e l'elemento in gomma. Cerchiamo di prendere tutte le precauzioni possibili utilizzando mascherina e guanni e facendo una prima sanificazione da parte nostra con i materiali a nostra disposizione. Ovviamente poi il personale sanitario dovrà nuovamente sanificare il materiale in modo professionale. Per la consegna abbiamo il supporto della prevenzione civile, che preleva il materiale a casa di ogni maker e lo trasporta verso le sedi centrali, che sono potenza, madera, policoro e paterno. Da lì poi, in base alla richiesta, alla priorità assente alla richiesta, il materiale dell'esmissato verso l'utilizzatore di Nabi. Grazie. 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 Grazie.